caro internauta benvenuto nel nostro canale run shop un piccolo spazio virtuale pensato per te per il tuo palato per il tuo benessere e anche per i tuoi amici pelosi centinaia di piatti per tutti i gusti e per tutte le occasioni trova tante ricette diverse e sfiziose da portare in tavola assieme al popolare e mitico chef guerrino maculan che con la sua semplicità ha già conquistato giovani cuochi e casalinghe che tu sia appassionato di cani toys o di molossi di cani da lavoro o da compagnia non fa differenza in questo canale potrai trovare storia informazioni e curiosità sul tuo amico a quattro zampe preferito ma anche video sull'addestramento l'alimentazione la toilettatura e molto altro ancora e se invece il tuo amico fa le fusa run shop ha preparato per te una serie di filmati monografici che raccontano le origini la storia il carattere e le singolari abitudini del tuo piccolo felino non scalpitare run shop ha pensato anche agli amanti del cavallo e alle discipline equestri che tu prediliga la monta western o la monta inglese o che tu sia semplicemente appassionato di lunghe passeggiate a dorso di cavallo run shop ti guiderà alla scoperta di un fantastico animale che accompagna l'evoluzione dell'uomo fin dai suoi primordi un bel respiro e via seguici in fondo al mare run shop vi porta a spasso per le acque di tutto il mondo alla scoperta di relitti affondati delle barriere coralline e dei pesci che le popolano le attività del diving dei resort e la buona cucina tutto questo è missione relitti non è finita per chi vuol continuare a viaggiare il canale run shop raccoglie avventure e viaggi on the road adriartica il viaggio di un ragazzo disabile da venezia a caponord una spedizione di 15.000 chilometri in sella moto a tre ruote kanun il sangue e l'onore un documentario sulla vendetta di sangue raccontata attraverso interviste e dichiarazioni delle persone direttamente coinvolte nel secolare codice albanese del kanun mal d'africa off road un viaggio impegnativo e avventuroso lungo il deserto più vasto e impervio del pianeta il sahara una spedizione attraverso libia e tunisia alla scoperta della storia delle culture delle civiltà della natura e dei segreti di questi luoghi splendidi ed emozionali guarda i nostri filmati iscriviti al nostro canale lasciaci un commento o regalaci un like se ti piacciono i nostri video run shop condividi le tue passioni grazie a tutti